Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, sono Fabrizio e oggi parliamo di automobilista e di iRacing Allora, iniziamo con iRacing, ho una notizia rapidissima da darvi Il famosissimo sistema Tempest, della gestione dell'acqua, delle condizioni di bagnato che doveva arrivare prezzo su iRacing è stato rinviato a marzo del 2024 Questo, a detta di Greg Hill, per garantire il funzionamento, l'integrazione al sistema iRacing in modo perfetto perché non vogliono presentare un qualcosa e avere dubbi Quindi per una questione di perfezionismo preferiscono rinviare ed essere sicuri che il tutto funzioni Sono stati annunciati nella prossima build nuovi contenuti e in più si parla di integrazione dei nuovi sistema di danni per quanto riguarda 18 veicoli e anche l'integrazione della fisica di comportamento dell'uscita di strada delle auto Chiuso il capitolo su iRacing, parliamo di Automobilista 2 Questa è un'analisi fatta su, diciamo, una ventina di ore ragazzi quindi non è approfondito in cui ho potuto apprezzare ogni singolo dettaglio di quello che è stato fatto in questa patch che comunque rivoluziona quello che era il vecchio, adesso si può parlare di vecchio Automobilista 2 è stato fatto un concreto passo in avanti rispetto a quello che è, secondo me, finalmente una fisica coerente con quello che dovrebbe forse succedere in pista in certe situazioni Dico forse perché? Perché non è che ho avuto la fortuna di provare tutte le auto in tutte le situazioni però più o meno quello che ci si aspetta, insomma, o quello che speriamo succede in pista quello che è sicuro è che comunque a me riesce a trasmettere ancora più emozioni rispetto a prima e questo è un fattore molto importante che appunto mi spinge a stare seduto su quella famosa postazione come dico sempre il miglior simulatore per me è quello che riesce a farti posare il culo di più sulla postazione a parte tutte le discussioni che si possono avere su chi riesce a restituire meglio le sensazioni su fisica ed altro quindi la mia disamina, ovviamente basata su poche ore di esperienza su questa nuova patch è basata su quello che è il sentore di panza ed è penso quella la cosa che interessa di più sicuramente il divertimento si moltiplica perché secondo me hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto per quanto riguarda il discorso della gestione del comportamento, della fisica, dei pneumatici quindi questa deformazione della carcassa che si riesce comunque a percepire che hanno lavorato tantissimo su questo aspetto qui anche per quanto riguarda la gestione della termodinamica che è molto importante, della gomma sempre perché effettivamente adesso ci sono dei range sul quale il pneumatico lavora meglio o peggio si sente molto di più il discorso di consumo della gomma quindi la gestione in gara è diversa da prima a prima insomma potevi andare un po' come ti pareva prima di consumare la gomma o comunque sentire il consumo della gomma era un po' più complicato oggi ad esempio uno spiattellamento sicuramente viene a infigere su quello che è la prestazione che hai in generale sulla tua gara se maltratti la gomma adesso non ci sono sconti se vai oltre un certo range di temperature il grip soprattutto posteriore per le trazioni posteriori ragazzi posso andare a vedere nell'ultima live che ho fatto mi lamento del fatto che la macchina diventa molto scivolosa ma è normale se hai un asfalto incandescente una gomma che l'hai portata da oltre la temperatura di quel range diventa più scivolosa quindi perdi grip insomma diventa molto più coerente più severo anche nei confronti di certi aspetti che c'erano prima in cui si aveva questa sensazione di andare soprattutto con retrotreno su dei binari non c'è più questa cosa qui una cosa che comunque è impressionante ragazzi è in situazioni di asfalto bagnato come hanno annunciato i Reiza la gestione delle gomme e quindi durante la saturazione di acqua nelle gomme funziona ragazzi cioè tu devi andare fuori traiettorie per andare a trovare grip quello che succede nella realtà ed è fichissimo un'altra cosa che è impressionante che lo era già è ragazzi l'effetto acqua planning è micidiale è micidiale le sensazioni che avete al volante è micidiale il comportamento della macchina cambiano tutti gli aspetti della gestione della gara quando piove ragazzi le pozzangre vivono cioè vi salutano vi puoi dare un nome c'è un'evoluzione anche di profondità in base a quello che sta accadendo dal cielo ragazzi e questo è veramente molto bello soprattutto perché dà una vita propria a quella che è la gara cioè tu puoi iniziare con il sole che spacca la pietra e finire con il diluvio universale che ti arriva l'arca di Noè che ti passa accanto e devi cambiare totalmente strategia la tua forma mentis deve essere talmente duttile da potersi adattare a tutte quelle che sono le situazioni quindi il divertimento aumenta in modo pazzesco se ci aggiungi che puoi far decidere al giocatore gli slot con la tipologia di meteo che lo aspetterà oppure lasciare al caso lascia al caso oppure il meteo reale cioè è stratosferico o anche come vi dicevo richiamare quelle che erano le condizioni meteorologiche del passato quindi tutto questo nel complesso più tutte le varie piccole migliorie poi queste formula degli anni 90 tech che sono fantastiche ma anche i circuiti che uno dice vabbè sempre gli stessi no 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 ragazzi vi assicuro perché ci sono dei cambiamenti ad esempio sul Montreal dell'88 con questi cordoli alti così come Imola 88 ragazzi non li puoi prendere poi c'è stato un affinamento per quanto riguarda il force feedback che era già comunque di alto livello sto guidando con il mio custom ho provato anche il Defat Plus mamma mia ragazzi è stratosferico è bellissimo veramente devo dire che il livello è altissimo ragazzi quello che dicevo sono le emozioni della panza che parla qua ragazzi cioè non che ho la panza nel senso che le prime impressioni cosa mi hanno trasmesso mi ha davvero impressionato in modo molto positivo adesso quello che manca ragazzi non è nient'altro che la sezione multiplayer perché ragazzi la gestione del multiplayer lasciamo stare gli eventi time trial che li hanno rimessi insomma funziona o non funziona che li hanno rimessi sono interessanti ok ma e soprattutto la gestione del netcode cioè deve essere qualcosa di stabile cioè tu io da utente che mi affitto un server esterno ad esempio tu mi devi garantire che con quello mi funziona ok perché delle connessioni peer to peer funzionano meglio di un server dedicato oggi c'è un problema e questo è evidente che blocca l'espansione di Automobilista 2 perché proprio manca questa parte molto importante le scelte che sono state fatte però le condivido di Reiza perché mi devo concentrare prima di avere un prodotto che sia consistente che possa offrire al pubblico che guarda questo è un prodotto bello e poi dietro ti cucio quelli che sono le features importanti multiplayer e magari una carriera ecco questo lo condivido perché se tu fai il multiplayer però poi il giochino lascia il tempo che trovo ovviamente non hai manco il tempo di trovare le persone che se ne vanno vi ricordo che qua sotto trovate il link al nostro canale telegram in cui ci ritroviamo e diamo le disponibilità per girare su Automobilista 2 quindi veramente adesso siamo credo oltre 110 persone quindi siete tutti benvenuti e così possiamo anche farci una chiacchierata e correre insieme magari non per forza su Automobilista 2 quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto come al solito pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale lasciatemi un commento ovviamente ditemi cosa ne pensate di queste notizie e della mia opinione rispetto a Automobilista 2 noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao